Manifestazione civile di diverse decine di cittadini questa mattina alla stazione ferroviaria di Godo di Russi. I pendolari chiedono il ripristino degli orari dei treni, che dal 9 di dicembre sono variati causando notevoli disagi. Trenitalia ha aggiunto autobus integrativi, ma non sono sufficienti. Alla protesta, che nei giorni scorsi ha visto protagonista anche la provincia di Ravenna, si è aggiunto questa mattina, presente alla manifestazione, con gli assessori, il sindaco di Russi, Sergio Retini. Durante la mattinata sono state anche raccolte firme per una petizione. Molta gente presenta alla manifestazione di questa mattina. Cosa sta succedendo a Godo? C'è stato comunicato dai nostri figli, venendo a casa da scuola, che sarebbero state soppresse le fermate dei treni dal 9 di dicembre. Da 50 treni che avevamo, 52 per la precisione, ce ne hanno lasciati 23. Nessuno ferma più nella nostra stazione che era attiva, non era una stazione dismessa. Quindi noi esigiamo che la situazione ritorni a come era prima dell'8 di dicembre.